Un'opera che ha come protagonista la giustizia, che parla del bene comune e sul come vivere in armonia. Come si fa? Ce lo spiega Ambrogio Lorenzetti con l'allegoria ed effetti del buono e del cattivo governo. Buona visione! In età comunale nasce una pittura pensata per la politica. I governanti richiedevano agli artisti che le sale di rappresentanza del Palazzo Comunale venissero rappresentati i successi militari, politici e diplomatici della loro città. Il Palazzo Pubblico di Siena è uno dei pochi che conserva le pitture repubblicane, grazie alla sua lunga durata come Repubblica. Ma chi affrescava questi luoghi così importanti? Ovviamente venivano chiamati gli artisti più illustri della città. Ad esempio, a Firenze, l'allora Palazzo Comunale, oggi il Museo del Bargello, venne affrescato da Giotto. E se Firenze aveva Giotto, Siena rispondeva con un po' Cerdassi, con Duccio di Buoninsegna, Simone Martini e i fratelli Ambrogio e Pietro Lorenzetti. L'affresco di Ambrogio occupa ben tre pareti della Sala della Pace, una sala in cui venivano accolti ambasciatori e si dava udienza ai cittadini. Malaffresco non è rivolto a loro, o comunque non principalmente, ma ai nove, ovvero il governo di mercanti borghesi di parte guerfa che, al tempo della commissione di Ambrogio, governavano Siena già da 50 anni. Sono proprio loro che commissionano l'opera di Ambrogio, di modo tale da non dimenticare quali sono i valori e i principi che garantiscono un buon governo. Ma andiamo ad analizzare l'opera da vicino. Partiamo dalla prima parete, che è quella a cui si riferisce l'iscrizione là dove regge, e si riferisce alla giustizia, che è la protagonista del ciclo pittorico, raffigurata seduta con la bilancia. La giustizia è rappresentata nei suoi due aspetti più comuni, giustizia distributiva a destra, ovvero quella che garantisce la distribuzione equa delle risorse, infatti si vede una figura alata che distribuisce i beni, e la giustizia commutativa a sinistra, praticamente quella penale, simboleggiata dall'angelo con la spada. La giustizia è ispirata dalla sapienza, raffigurata proprio sopra di lei, che tiene in mano la bilancia. Dai piatti di questa partono due corde che vanno a confluire una figura seduta al di sotto della giustizia, ovvero la concordia. Questa ha una pialla in mano che sta a indicare l'uguaglianza dei cittadini, quelli che appunto si uniscono alla corda. Il termine concorde allude al cuore, ma anche alla concordia, quindi in questo caso si riferisce alla comunità di intenti e sentimenti tra persone e quindi Ambrogio ha scelto di rappresentare la corda proprio per ottenere questo rimando, quindi sia al cuore, quindi alla comunità di intenti che alla concordia. Davanti ai cittadini che si uniscono alla corda ci sono dei soldati che garantiscono sicurezza a questi e quindi alla cittadinanza. Se seguiamo la corda vediamo che questa va a finire sul polso destro di un uomo anziano, il bene comune che regna assistito dalle virtuti ologali, speranza, fede e carità che sono in alto, cardinali e morali ai lati, quindi pace, fortezza, prudenza, magnanimità, temperanza e giustizia. Intorno alla sua testa si leggono le lettere CSCV che vogliono dire Comune Senarum Civitas Virginis, quindi il bene comune coincide con il comune di Siena e lo testimoniano anche i colori, quelli del suo vestito, bianco e nero, ovvero i colori della balsana a stemma di Siena. I soldati a destra in basso sorvegliano un corteo di cattivi e nemici sconfitti. Infatti si vedono due signori armati che consegnano il loro castello e alcuni monigoldi che attendono la condanna con le mani legate da una corda, guarda caso proprio un'antitesi di quella che lega invece i buoni. La pace invece è raffigurata semisdraiata, una posa insolita rispetto alla consuetudine medievale. In una mano tiene una frasca di olivo e sotto il cuscino su cui giace si scorge un cumulo di armi o un'armatura ad intendere che queste devono essere l'ultima risorsa per garantire la pace. I gemelli invece con la lupa sotto ai piedi del bene comune sono Romolo e Remo ed è una legittimazione dalla Repubblica Romana alla Repubblica Senese. Spostiamoci ora a destra dell'allegoria del buon governo e diamo un'occhiata ai suoi effetti in città e in campagna. Vediamo che è una città che pulsa di vita, dove si costruisce, si produce, si studia. Ci sono molte botteghe aperte, qui quella dei lanaioli, qui dei calzaioli e c'è anche l'università. La città è in costruzione, come si vede da questa torre. Anche nella campagna si vedono gli effetti del governo di giustizia. La gente coltiva i campi e sono rigogliosi, la viabilità è sicura e le comunicazioni sono assicurate da ponti in pietra. I signori qui, come vediamo, escono tranquillamente a cavallo per una battuta di caccia. Qui alleggia la Securitas, che ha una funzione intimidatoria della giustizia punitiva. Condensa il messaggio dell'allegoria, in quanto dichiara che il benessere della terra felice è frutto di una giustizia spietata nel neutralizzare i rei. Allo stesso tempo promette un clima rassicurante ai cittadini che hanno intenzione di investire i loro denari in beni immobili. La Securitas con la mano sinistra regge una forca, che allude ai patiboli che venivano collocati in posizione sopraelevata ai lati delle strade maestre per scoraggiare i propri briganti. Ora invece spostiamoci sulla parete opposta, là dove la giustizia invece sta legata, come ricorda appunto l'iscrizione che accompagna gli affreschi. Qui, al posto del bene comune, troviamo la tirannide, che ha un potere proprio grazie al fatto che la giustizia è legata. È un mostro cornuto e strabico con il seguito di vizi. Il tiranno è strabico perché non è lungimirante e mostra le zanne per indicare la ferocia. Nella mano sinistra, non a caso quella del male, ha uno scettro con due dischi, come lo metti, sta in piedi praticamente. Rappresenta infatti l'arbitrio capriccioso del tiranno che può ribaltare le decisioni a suo piacimento. Nelle iscrizioni, inoltre, si legge che nessuno tira a dritta corda, quindi non c'è unità di intenti, non c'è la concordia. Il caprone, ai suoi piedi, invece, indica la violenza, gli istinti più bassi che aprono le porte all'inferno. Insieme al caprone c'è anche una figura di cui non si vede più la testa inginocchiata proprio davanti al tiranno. Questa dovrebbe rappresentare il servilismo. Giù in basso rispetto alla tirannide troviamo la giustizia incatenata, impotente ma con un saio bianco che ne indica la purezza. Se vedete bene anche i dischi sono rotti e proprio accanto a lei. Sopra il tiranno, invece, troviamo tre figure, la superbia, l'avarizia e la vanagloria. La superbia è da intendersi come il diritto di sopraffazione da parte del tiranno, per questo la figura impugna una spada. Ad ispirare il tiranno c'è anche l'avarizia, intesa come l'avidità, e la vanagloria che si vanta di imprese mediocri gonfiandole. Infatti ha in mano una canna da palude che con il vento si spezza. Poi, a partire dalla sinistra, abbiamo la crudeltà, raffigurata da una donna intenta a sgozzare un bambino. Segue la prodizio, ovvero il tradimento, che è rappresentato da un animale per metà pecora e l'altra metà scorpione. Ti sembra di accarezzare un agnello, ma in realtà ti ferirà proprio come uno scorpione. Poi abbiamo la frode, che in mano non a caso ha un metro taroccato. A sinistra della tirannide abbiamo il furor, che Ambrogio lo intende come la furia, quindi una persona che perde la ragione, che ti porta all'eresia, alla discordia. Il tiranno pratica la furia. Si prosegue con la divisio, che esprime l'interesse che ha il tiranno nel mettere il cittadino l'uno contro l'altro, di modo tale che non si venga a creare un popolo compatto contro di lui. E alla fine, come ogni governo tiranno e si rispetti, non c'è la pace ma la guerra, raffigurata come una donna armata. Se vediamo ora gli effetti sulla città e sul contado, come vediamo, qui ci sono segni di distruzione, qui si uccide, solo l'armaiolo lavora. Una sposa con l'abito rosso viene addirittura rapita il giorno delle sue nozze, si bruciano i villaggi, i ponti sono crollati. Se dall'altra parte avevamo la securità, qui c'è il timor che regge un cartiglio che dice Dove non regna la giustizia non si pensa al bene comune, ma al bene proprio. E per questa via non passa nessuno senza dubbio di morte, cosa vuol dire che la paura domina il contado. Purtroppo parte degli effetti del cattivo governo hanno subito dei danneggiamenti negli anni. Il primo risale già alla seconda metà del Quattrocento, quando proprio San Bernardino da Siena sfregia e chiede di cancellare due scene in cui comparivano dei cambiavalute e dei giocatori d'azzardo. La centralità della giustizia e il bene comune con le loro conseguenze erano i cardini del buon governo secondo le dottrine aristoteliche, che tradotte nella metà del Duecento, San Tommaso d'Aquino concilia con la cristianità. Anche la divisione tra giustizia commutativa e distributiva è un concetto di Aristotele. L'affresco, oltre a rappresentare un tema sempre attuale, può essere anche visto come un ritratto verosimile della Siena medievale e questo lo rende molto affascinante, perché troviamo testimonianze sulle tecniche agricole, sui costumi, la viabilità, l'architettura, una testimonianza della vita del tempo insomma. Inoltre, Ambrogio Lorenzetti aveva la capacità di rappresentare aspetti della realtà mai fissati prima in pittura, come ad esempio i panorami, ed era famoso per il suo ingegno e cultura, che è ben evidente nel modo originale in cui rappresenta le allegorie. Nessuno come Ambrogio aveva colto dettagli come una pianta sonda avanzale, un gatto che insidia una gabbietta, un volo di cicogne, il fumo dei villaggi in fiamme. E va detto che bisogna pensare che vi erano anche delle applicazioni di metallo, molte purtroppo andate perdute, come ad esempio quelle che adornavano la Vanagloria. Penso che a questo punto vi sarete accorti che si tratta di un'opera elaborata e molto complessa, su cui ci sarebbe ancora molto da raccontare. Ma per ora ci fermiamo qui. Ma se avete curiosità o considerazioni, scrivetemi pure. Invece se pensate che sia più interessante parlarne seduti comodamente nella Sala della Pace, circondati dalle figure di Lorenzetti, contattatemi pure. Vi accompagnerò volentieri. Alla prossima! Grazie! Penso che a questo punto vi sarete accorti che si tratta di un'opera elaborata e molto complessa, su cui ci sarebbe ancora molto altro da raccontare, ma per ora ci fermiamo qui. Ma se avete curiosità o considerazioni, ne parliamo qui nei commenti. Grazie per l'attenzione, alla prossima! Grazie! 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 Grazie!